Buongiorno carissimi amici, ho deciso di fare un altro video perché in questi giorni purtroppo non sono riuscito a passare per ogni isola o tra l'organizzazione della campagna elettorale, problemi di lavoro e problemi familiari, purtroppo questo giro non l'ho potuto fare, però ci tengo a dire la mia su quello che è il nostro programma amministrativo e su alcune piccole cosette che poi vi faranno avere il quadro di quella che è la situazione. Allora, innanzitutto quello che voglio dirvi è questo, che noi abbiamo fatto un programma diverso, un programma diverso da tutti gli altri candidati, un programma diverso e un programma nuovo che non è mai stato affrontato da nessuna amministrazione. Se voi andate a spulciare tutti i programmi degli ultimi 30-40 anni di tutti i candidati a sindaco non troverete mai nessun riferimento a quello che è il nostro programma per determinate cose specifiche che possono essere utili in maniera particolare, che a me preme molto, alle isole più piccole. In che senso? Nel senso che noi diamo particolare attenzione alle frazioni e alle isole attraverso l'istituzione della consulta delle frazioni, delle riunioni di giunta e di consigli iteneranti su ogni isola. E soprattutto abbiamo previsto nel nostro programma amministrativo per dare una risposta a tutti quegli amici di Stromboli, di Panarea, di Alicudi e di Filicudi che mi sollecitavano l'inutilità delle circoscrizioni perché non avevano fondi a disposizione, perché non avevano poteri. Purtroppo la legge ha abolito le circoscrizioni, altrimenti si sarebbe potuto trovare la maniera di dare più potere alle circoscrizioni e dei budget. Ma visto che la legge ha tolto le circoscrizioni, noi abbiamo previsto ed è scritto in programma e se noi andremo al governo delle isole Olie sarà tra le prime cose che faremo una commissione speciale isole. Questa qui è una cosa che veramente mi rende felice, pur essendo stata una cosa condivisa da tutto il gruppo, ma la sento quasi come una mia creatura perché la vivo tutti i giorni queste problematiche. Quindi attraverso la commissione speciale isole avremo uno strumento che stimolerà e controllerà l'amministrazione, che farà delle proposte e soprattutto avremo la capacità di predisporre un bilancio sociale, ovvero di ripartire equamente tutte le risorse che il comune incammererà e quindi avremo per ogni isola un budget da poter spendere per determinate esigenze. E questo qui è la maniera per dare delle risposte concrete anche a quegli amici che dicevano voglio un comune autonomo a Stromboli. Ebbene noi in questo modo qui non vediamo un comune autonomo ma abbiamo la possibilità di avere delle risorse da poter spendere su ogni singola isola. E questo veramente, credetemi, è un grande successo e se noi andremo al governo sarà il mio vanto e il mio orgoglio. E soprattutto poi è previsto un sollecito per le questioni della telemedicina, il fatto di queste apparecchiature che sono state montate in ogni guardia medica e che allo stato attuale non funzionano perché mancano i reagenti, perché manca il personale. Noi spingeremo in tal senso affinché si possa avere degli strumenti funzionanti e le guardie mediche di ogni singola isola siano pure pienamente efficienti anche attraverso la possibilità di strutture polifunzionali con delle visite specialistiche di vari esperti del settore. Poi un'altra cosa di cui andiamo fieri di questo programma è quello di prevedere una portualità e un discorso sui trasporti che è diverso dagli altri. In che senso? Nel senso che noi non siamo per delle opere mega opere, mega strutture, noi vogliamo che tutti i porti di tutte le isole funzionino perfettamente e attraverso la manutenzione, la gestione ordinaria e anche straordinaria degli approdi si può veramente ridurre quello che è l'isolamento invernale, avere il diritto alla mobilità che ci è sempre stato negato e soprattutto si potrebbe un po' di più destagionalizzare perché il turista che viene nelle piccole isole sa che può arrivare e partire senza il rischio di dover restare bloccato e quindi perdere aerei e quant'altro. Poi un'altra cosa di cui vado fiero che è stata inserita nel nostro programma è il biglietto unico, il biglietto unico Eolie che è stata una bella idea che onestamente io avevo già proposto a suo tempo all'amministrazione Giorgiani quando facevo parte, non so se lo sapete, io per un annetto circa ho fatto parte della commissione speciale trasporti marittimi, una commissione che si doveva occupare di quello che è il discorso dei trasporti marittimi ma che nei fatti poi è servita ben poco, infatti dopo un mese, dopo un anno mi sono dimesso da questa commissione, però in questa commissione io ho lottato per quello che è il diritto alle corse per Napoli che ci volevano togliere in quel frangente e soprattutto avevo proposto l'idea del biglietto unico Eolie. Il biglietto unico Eolie è un biglietto di una durata variabile che può essere tra i tre e la settimana, dieci giorni, a un unico prezzo che possa consentire ai turisti di girare tutte e sei le isole eolie, sono sette però sappiamo che su Salina si potrebbero fare delle convenzioni, di girare tutte e sette le isole eolie con quest'unico biglietto, avere delle convenzioni nelle strutture pubbliche, nelle musei, avere delle convenzioni con gli alberghi, con le attività commerciali, in questo modo si può far sì che il turista possa girare con dei prezzi calmerati le isole eolie. È un'idea su cui si può lavorare, un'idea su cui ho sempre creduto ed è quello che in effetti si fa in tutte le grandi città, se voi andate a Londra, a Dublino, in qualunque città europea esistono già dei biglietti unici con i quali tu puoi spostarti da una parte all'altra della città prendendo tutti i vari tipi di mezzi pubblici e avendo delle agevolazioni quando entri nei musei, nei locali, eccetera, eccetera. Questa è un'idea che ho proposto al mio gruppo e al mio gruppo all'accolta volentieri. Un'altra cosa che noi prevediamo nel nostro programma e sulla quale ci batteremo e nessuna amministrazione, salvo Michele Giacomo Antonio quando fu sindaco, se ne è mai occupato, noi vogliamo far sì che si faccia un regolamento per il trasporto dei piccoli colli sui mezzi veloci per risolvere i problemi che ci sono soprattutto nel periodo estivo per poter ricevere i beni deperibili e determinate cose con gli aliscafi. Ci vuole un regolamento chiaro, su questa cosa io più volte mi sono battuto, ne ho parlato anche con il Presidente Crocetta, ma sono rimaste solo promesse. Noi ci batteremo per questo, anzi vi dirò di più, riprenderemo la vecchia e buona idea del grande Michele Giacomo Antonio che è quella di creare un mezzo ad hoc, un aliscafo, una nave che possa fare il giro di tutte e sette le isole eolie per poter trasportare questi piccoli colli che risolverebbero i problemi delle attività commerciali e oliare. Chiaramente il discorso dell'aliscafo e del mezzo è un discorso un po' più complesso, bisognerà interloquire con i Ministeri, con la Regione, però è una cosa su cui si può lavorare. Nell'immediato cercheremo invece di trovare la possibilità attraverso delle conferenze di servizi, delle convocazioni delle compagnie di navigazione, le modalità per poter trasportare i piccoli colli. Poi nel nostro programma cosa è previsto? È prevista la mappa dei sentieri, la casa dello studente che è un'altra cosa per la quale io mi sono battuto, soprattutto la differenziata, la raccolta differenziata dei rifiuti, che è un'altra cosa per la quale io mi sono sempre battuto, sia prima che dopo. In otto mesi di Consiglio Comunale ho fatto almeno tre interrogazioni, cercando di dare delle soluzioni, cercando di chiedere delle informazioni e mi veniva sempre il risposto che noi oliani non siamo in grado di fare la differenziata e per questo che non è mai partita. Nel programma abbiamo messo in evidenza il fatto che vogliamo valorizzare la riserva naturale orientata dell'isola di Stromboli, che possa essere anche un volano turistico in accordo con le aziende foreste ed emaniali. Abbiamo un programma ric e variegato, soprattutto cercheremo degli esperti per le progettazioni che siano in grado di intercettare i bandi, i finanziamenti regionali, nazionali ed europei per poter dare delle risposte concrete alla gente, perché se non abbiamo persone in grado di fare progetti, quindi non possiamo di conseguenza chiedere finanziamenti e di conseguenza non possiamo dare risposte alla gente. Noi dobbiamo avere questa catena che funziona perfettamente, tutto ciò fino adesso mi pare che non è mai stato fatto o è stato fatto male. Io qua ho una marea di appunti, non voglio riempirvi di chiacchiere, ma quello che vi posso dire nel concreto è che tanti mi hanno detto ah ma ti criticano perché tu cosa hai fatto in fondo da quando sei consigliere comunale? Allora cari amici, io ho fatto tanto, ho fatto tanto perché innanzitutto nella mia vita ho sempre lottato per il mio paese che è Ginostra, ho lottato per tutte le isole olie, mi sono sempre occupato del sociale attraverso il giornalismo, sono giornalista pubblicista, collaboro per diverse giornali e riviste e mi sono sempre impegnato in prima persona per le mie isole. E voglio ricordare a tutti che io non sono consigliere comunale da 5 anni, io sono consigliere comunale da 8 mesi, in 8 mesi sfido chiunque a dimostrarmi a qualchiunque a dimostrarmi che non ho fatto, io ho fatto in 8 mesi più di quello che hanno fatto altri consiglieri comunali in 20 anni di politica e lo posso dimostrare con le carte, con le carte perché ho prodotto, andate al protocollo del comune, cercate, chiedete, tra note, interrogazioni, ho riempito un comune, è chiaro che non sono al governo, non ho il potere di risolvere le questioni, però ho tenuto alto, ho tenuto alto la questione della differenziata, ho dato modo alla gente di conoscere, ho dato la possibilità di avere trasparenza, ho fatto quello che potevo fare. Io cari amici vi chiedo e ve lo chiedo veramente perché penso che dobbiamo dare una svolta alle nostre isole e chiedo a tutti voi di sostenermi ancora, io il mio impegno ce lo metto, combatto, cerco di portare avanti le nostre problematiche, i problemi delle isole ole, in particolare quelle delle isole minori perché è un legame particolare con le isole minori anche se qualcuno dice che non dobbiamo chiamarle isole minori. Io le chiamo isole minori perché ci sentiamo isole minori, il giorno in cui non ci sentiremo più isole minori ve lo diremo. Chiedo a tutti voi di darmi una mano, di aiutarmi a portare avanti ancora queste battaglie attraverso un voto consapevole, votate Gianluca Giuffrea al Consiglio Comunale e Ciccio Rizzo come sindaco se volete veramente dare luce al cambiamento, se volete veramente un cambiamento reale e concreto, a me mi troverete sempre, io ci sono e ci sarò sempre. Grazie a tutti.